Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video da tanto che io faccio un vlog, lo so e infatti oggi mi porterò con me fuori a Mirandola come vedete ho gli occhiali ma ovviamente li uso solamente per vedere da lontano perchè sono mio pezzo e niente, comunque sto per uscire con mio fratello farò un giro in bici si ve l'ho detto, non so e niente, infatti farò anche delle foto e noi ci vediamo fuori, ciao in balcone, sto aspettando mio fratello che è peggio di una donna non scherzo comunque vi faccio vedere cosa mi sono messa questa giacca di pelle, poi questa maglietta poi questi pantaloni e queste scarpe di lo star bianche mi sono appena accorsa che lo stavo registrando comunque ho detto che stiamo andando a cercare un posto per fare delle foto e niente non so neanche dove stiamo andando ma ok c'è un sole bellissimo infatti grazie infatti questo è l'orario migliore cioè sono le 7 e dato che c'è un sole estero grazie a tutti non so dove mi sta portando ma ok lo avete visto nella copertina ecco ho fatto delle foto infatti come vedete qui qui in su cioè adesso qui eh sì non so parlare ok ho fatto molte foto cioè molte no però ovviamente stiamo tornando stiamo cercando un altro posto dato che a me non piace cioè mi piace la natura però vorrei anche dei fiori e così infatti adesso stiamo cercare cioè andiamo a cercare un altro posto mi foto salutizia mio fratello la bici di mio fratello si è bucata ovviamente non torneremo a casa ovviamente vero Pieri dopo tre anni siamo quasi arrivati a casa e niente infatti metteremo giù la bici oppure la aggiusterà e poi continueremo a fare delle foto perché ne ho fatte pochissime e niente dove stai andando non lo so stavo dicendo a sinistra non a destra ok stiamo per cioè sì abbiamo messo giù la bici e stiamo andando verso il posto e prenderemo anche il gelato eh vedi ho già scelto allora siamo andando a gelatina a coperino e prenderò il gelato ho già scelto mango e cuci sono felicissime oppure se vuoi io avrei mango e cuci sono? sì allora ok abbiamo preso il gelato e ora non mangiarlo vabbè faremo un piccolo giro come vedete niente stiamo andando al parco ho convinto mio fratello ovviamente e mio fratello ha detto che appena finirà il suo gelato che ha quasi finito ehm torneremo a casa ma vi mette no perché devo finirlo anch'io trappo si torno a casa infatti mi sono stancata anch'io è vero mi dimentico sempre una parte finale spero che il video se vi piaccia lasciate un pollice in su e noi ci vediamo nel prossimo vlog ciao ciao